Dopo la reunion delle Spice Girls, Mel C ritorna sulle scene come solista annunciando l'uscita del nuovo album Melanie C il prossimo 2 ottobre. L'album sarà l'ottavo da solista, verrà presentato dal vivo in occasione del mondo mondiale e la vedrà esibirsi sabato 8 maggio 2021 ai magazzini generali di Milano, unica tappa italiana dell'artista.